eccoci qui appena finita al binorefe gubbio 1 2 diciamo che non è stata proprio una grande partita da parte del gruppo ma è stato davvero molto molto cinico infatti come mi sono scritto tu qui tra le azioni e tutto vedrete più al binorefe che gubbio ma sti cazzi onestamente partiamo subito al quinto minuto gol di elio de silvestro sul svarione del difensore insomma che era ha fatto una grandissima svarione onestamente un grande errore gubbio subito in vantaggio e fin qui pareva che la partita dove dovesse andare in discesa invece no al decimo infatti miracolo dei marchigiani al quattro dicesimo altro tiro di michetti mi pare si chiamava poi al venticinquesimo ammonito benedetti per una manata in faccia al trentasettesimo occasione campagnacci poi è sempre al stesso minuto esce paolelli infortunato quindi altro infortunio purtroppo in questo periodo più che risultati siamo sfortunati su infortuni dopo quello dei piccini se infortuna anche paolelli ed entra tofanari che a mio parere ha fatto una bella partita poi al cinquanta quattesimo ammonito ruffini per strattonata su de silvestro al cinquanta noiesimo escono giorgione e di nichetti ed entrano romizzi e sibilli al sessanta al sessanta tredesimo cocco sopra la traversa in occasione per albinolef poi esce campagnacci entra davis sempre al stesso minuto al sessanta settesimo vicino al gol sibilli di albinolef al settantonesimo il 2 a 0 del gubbio con chinellato che quindi smentisce tutti quanti quelli che dicevano anche sui vari siti del gubbio che dicevano che non erano bomber che insegnano a manco a mani bassi beh onestamente due partite due gol a faccia vostra onestamente poi al settanta quattesimo altro miracolo di marchigiani e quindi direi che il migliore in campo fate voi chi è altro miracolo di marchigiani su cori che tra l'altro cercava anche il gubbio poi alla fine ha scelto nando albinolef scelte sue strambe al settantanevesimo esce chini all'altro ed esce anche de silvestro ed entra plescia e tavernelli all'ottantanesimo esce gusu ed entra ravasio all'ottantatesimo ammonito riva che non è gigi riva ma un altro ottantasettesimo casilaghi vicino al gol su punizioni davvero miracolo del portiere avversario cosa che pare si chiamava chi le cose dovrebbe essere l'ex novara se non sbaglio al novantanesimo miracolo di marchigiani su cori quanti miracoli oggi e poi avere il novantesimo il gol di cavazzi ormai a parità conclusa però era meglio se finivamo a porte inviolate ma vai onestamente sti cazzi per come ho visto la partita diciamo che nel primo tempo c'è stato più albinolef ma diciamo che in sindesi c'è stato più albinolef proprio in tutta la partita però diciamo che siamo stati abbastanza cinici oggi infatti da quello coletto se solo tre occasioni due gol è l'occasione dei campagnacci a il quattro occasioni scusate quella dei casilaghi su punizioni e niente quindi va bene così onestamente anche ste partite sporche ste vittorie sporche sono da portare a casa assolutamente oggi era importante vincere e abbiamo fatto dopo in quale modo non mi interessa da me il gioco onestamente magari tutte le parete così soffrendo poi vincendo ci metto la firma a mani basse onestamente in campo marchigiani sicuramente poi anche chinellato casilaghi anche hanno giocato bene onestamente diciamo che oggi è stata più una partita di sacrificio che di spettacolo ecco benissimo così continuiamo così siamo a 27 punti si continua a salire in classifica ottimo prossima che sarà in casa col teramo alta qualità secondo me da vincere la moglie semo vincemolo tutti onestamente cacchio come detto prima migliori in campo marchigiani casilaghi chinellato e questi hanno ottimo davvero ottimo portiere figlio di cotanto padre ha preso le redini abbastanza direi forse anche più forti e niente questo era tutto per oggi gubbio che abbatte l'albinolo f per 2 a 1 benissimo e niente questo è tutto sempre 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 forza gubbio puntamento alla prossima